Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla morte di Pietro Serino, il quarantenne di Guardia Regia trovato senza vita ieri sera intorno alle 21 in località Falode, a diversi chilometri di distanza da Bocca della Selva, dove la notte tra giovedì e venerdì ha lasciato l'auto prima di far perdere le sue tracce. L'esame autoptico è stato disposto dalla procura di Santa Maria Capuavetere che sul caso ha aperto un fascicolo. Pietro sarebbe stato ritrovato nei pressi di un agriturismo, da alcune persone che hanno avvertito i carabinieri di San Gregorio Matese, i primi a recarsi sul posto. La notte tra giovedì e venerdì sarebbe stato con gli amici, quattro chiacchiere e una birra insieme, poi avrebbe deciso di salire in quota e raggiungere Bocca della Selva. L'auto però l'ha lasciata in località Sella del Perrone, meta degli amanti del picnic. Da lì avrebbe mandato un messaggio alla fidanzata, poi più nulla. Nessuno lo ha incontrato visto, eppure Pietro avrebbe raggiunto il luogo dove è morto a piedi percorrendo diversi chilometri. Sabato mattina l'allarme lanciato dalla famiglia e l'inizio immediato delle ricerche affidate a vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico, protezione civile e carabinieri. Campo base, la diga di Arci chiaro, ricerche via terra con l'ausilio di due unità cinofile dei vigili del fuoco, una di po' basso, l'altra di Matera, mentre una valutazione globale del territorio è stata fatta con l'elicottero della polizia di Pescara, l'undicesimo reparto volo. È stato utilizzato anche un drone. Ieri sera la macabra scoperta, al momento sembra sia escluso il malore, sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza. Pietro dunque avrebbe deciso di togliersi la vita. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Piedimonte Matese e coordinate dalla procura di Santa Maria Capoavetere, mentre il corpo delle quarantenne è all'obitorio dell'ospedale di Caserta, sconvolti familiari ed amici.